Io sono Alfredo Benedetti, Presidente della Versiliana. Al mio fianco ho Adolfo Lippi, storico, giornalista, regista, ma più che altro un simpatico amico della Versiliana. Di là abbiamo l'artista Gabriele Vicari, che poi ci racconterà qualcosa sulla sua opera del busto di D'Annunzio. Bene, oggi vogliamo ricordare che cosa? Un compleanno, un compleanno importante, una data importantissima per quanto riguarda la storia, la cultura italiana. Nasce il 12 marzo 1863 a Pescara Gabriele D'Annunzio, un personaggio eclettico, un personaggio di un'intelligenza vivace, stravagante, ilvate. Ilvate che è un termine per dire profeta, grande, poeta. In Italia divate ce ne sono stati tre. Uno è Ugo Foscolo e uno, per fortuna, e ce ne possiamo vantare, è Giosuè Carducci che nasce a Pietrasanta. Perciò siamo anche orgogliosi di questo. E poi abbiamo Gabriele D'Annunzio, che è l'ultimo della serie, in quanto il più giovane. Pertanto ci possiamo vantare di avere tre vate in Italia, di cui uno è stato ospite in questa villa che è qui alle mie spalle nei primi anni dello scorso secolo e uno è nato qui a Pietrasanta, il Carducci. Insomma, una terra che si può vantare e di presenze e di personaggi dove nascono anche qui in Versiglia. Il ricordare D'Annunzio, e lo voglio ricordare per il giorno della sua nascita, e non per la morte quando si fa sempre, perché lo potevamo festeggiare undici giorni fa, perché era morto il primo di marzo del 1938. Ma è bello ricordare la nascita, perché un personaggio così non muore mai. Pertanto ricordiamo il giorno della sua nascita. Dicevo, qui al mio fianco ho Adolfo Lippi, ripeto, storico giornalista, regista, grande amico e simpaticissimo personaggio, che gli chiederei che cosa ha lasciato in terra versigliese la presenza di D'Annunzio. Sì, D'Annunzio scopre la Versiglia grazie a un suo grande amore, che era la Eleonora Duse. Lui conobbe Eleonora Duse a Venezia, poi la portò a Firenze, alla villa La Capponcina. Lei, siccome era legata a Marina di Pisa, aveva una casa a Marina di Pisa, gli c'era anche morto un figlio piccolissimo, D'Annunzio la seguì a Marina di Pisa e lì lui a cavallo lentamente si inoltrò in Versiglia. Che successe? Che lui, siccome era stato con la Duse in Grecia e si era affascinato dall'Arcadia, questo senso dell'Arcadia dell'antica Grecia, lui rivide nella Versiglia di allora una nuova Arcadia. Scrisse proprio una poesia chiamata Versiglia come nuova Arcadia. Lui ci vedeva le ninfe, ci vedeva i tritoni, però non era già più così la Versiglia, tant'è che lui quando si avvicinava a Via Reggio ne fuggiva un po' sdegnato perché Via Reggio già si addentrava verso la capitale della balneazione europea. Era già una spiaggia mondana. Lui invece amava la Versiglia forestale, l'ha scritto anche nella pioggia del Pineto, che lui scrive tra Marina di Pisa e la Versiglia. Questo grande amore con la Duse lo condusse al secco. Al secco lui presero una casa in affitto, lui continuava ad andare a cavallo sulla spiaggia, mai a Via Reggio ma sempre tra Lido e Tonfano. E lì anche una volta cadde dal cavallo, ma gli piacque molto questa caduta da cavallo perché poté toccare con le labbra il mare, il salino. Ecco, lui era un sensuale, lui amava sentire con il corpo il territorio che traversava. Vicendo lì al secco, lui scrisse l'alcione. L'alcione c'è anche la poesia della pioggia del Pineto. Poi che successe? Che però la Duse, secondo lui, stava invecchiando. In realtà la Duse aveva 40 anni, ma allora le donne a 40 anni sfiorivano. E lui allora si invaghì di un'altra donna che aveva conosciuta a Firenze, questa principessa Alessandra di Roudini, che era sposata, aveva due figli. Lasciò marito e figli e seguì D'Annunzio qui alla Versiliana. Ecco, D'Annunzio frequentò la Versiliana con la re di Roudini e ci scrisse la figlia di Iorio e altre cose importanti. D'Annunzio in Versilia poi frequentò anche le Alpe Apguane perché lui era invaghito, gli piaceva molto questo ricordo michelangelesco, il marmo. E quindi la Versilia lui l'ha conosciuta benissimo internamente e non a caso poi ci è tornato più spesso, anche quando dopo, nella sua vita politica, lui tornò spesso in Versilia. Però restano di lui queste stupende poesie dell'Alcione e resta la figlia di Iorio. Bene, adesso chiedo invece a Gabriele Vicari, l'artista di questo bellissimo busto, che tra l'altro sarà anche, e lo dico per gli amici che riceveranno questo messaggio, gli amici del Vittoriale, che il nostro busto lo possiamo riprodurre e ci hanno già fatto richieste. Pertanto siamo disponibili alla riproduzione di questo busto perché è piaciuto molto, credo che sia uno dei più belli che sono in Italia dedicati ad Annunzio. E prima di passare la parola a Vicari, che sarà quello che concluderà con la sua cosa, anche perché ci deve raccontare un'altra idea, in quanto stiamo già progettando una nuova statua dedicata ad Annunzio, a altezza naturale, da collocare qui al Ponte del Principe, cioè ambientato, questo D'Annunzio che va a spasso col suo cane, con un leviero, bellissima, che poi vedremo anche alcuni cenni, perché? Perché la Versiglia lo vuole ricordare. E visto che questo grande artista, dove è stato e dove è passato, ha lasciato il segno, noi di questo segno, di questa presenza, la vogliamo comunque sempre ricordare ed esaltare. Adesso mi passano una rosa, perché la rosa di D'Annunzio, ricordate la famosa rosa che lui aveva coltivato e poi la usava per i quadri, per tante altre sue iniziative, e la appoggiamo, di ricordo, qui. Ah, dice, ma di solito si mette la Morty, no? Siccome era la sua rosa, e pertanto gliela mettiamo il giorno del suo compleanno. Gabriele, allora, hai fatto questo busto bellissimo, che ovviamente l'hai preso da fotografie, e ti sei aggiornato, ma ho l'impressione che qualcosa di tuo ce l'hai messo. Intanto il busto, come ripeto, gira la testa e di solito guardano dritti, e questo è stato un particolare che di solito non viene fatto. È già un segno particolare. Poi che altro ci hai messo la tua anima artistica dentro questo busto? Allora, più che la mia anima, ho cercato di rubare a lui il senso della poesia, tutti questi discorsi che lui, insomma, è un grandissimo. Quindi ho cercato poi di riportarli dentro la materia. E il discorso che lui guarda a sinistra gli dà un po' un senso più di prospettiva in lontananza, quindi guarda più l'orizzonte. Cioè, l'idea dell'artista è che non finisce mai la sua visione. Io almeno l'ho visto in questa maniera qui. E poi ho cercato di rappresentarlo nel suo periodo migliore della sua vita, insomma. Nel periodo in cui era sempre, penso, un gran Don Giovanni, no? Penso. Tutto qui. Bene. Allora, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio gli amici che vedranno questo nostro piccolo filmato. Un saluto agli amici del Vittoriale, che spero presto di incontrarli, perché ci daremo appuntamento in modo che di creare questo mondo dedicato a D'Annunzio e insieme a tutti quei luoghi, quelle persone che lo apprezzano e l'hanno apprezzato, in modo da ritrovarsi tutti insieme e fare una festa su D'Annunzio, quando sarà un momento opportuno.